Benvenuti da Scoop Esclusivo. Se sei appassionato di gossip e notizie, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche un video. Ogni like, commento e condivisione è un sostegno prezioso per me e per il lavoro che c'è dietro ogni singolo video. La tua partecipazione attiva è ciò che alimenta la crescita del canale e mi motiva a creare contenuti sempre migliori. Sei curioso di scoprire cosa sta leggendo Diletta Leotta sotto l'ombrellone? Una foto recente ha rivelato tutto, creando sorpresa e curiosità tra i suoi fan. La nota conduttrice di Dazon, oltre ad essere una professionista di successo, sta vivendo un momento molto speciale nella sua vita, presto diventerà mamma. Come tutte le future mamme, Diletta desidera essere preparata per uno dei momenti più belli e allo stesso tempo sconvolgenti della sua vita. Dopo la conclusione della stagione calcistica, Diletta si sta godendo un meritato periodo di relax sul suggestivo lago di Garda, insieme al suo compagno, al suo amato cagnolino e ad alcuni amici. Durante questo tempo di riposo, ha deciso di dedicarsi anche alle letture, preparandosi al meglio per il suo prossimo «lavoro» di mamma. Uno dei dettagli che non è sfuggito ai suoi fan è il titolo del libro che si trova su lettino accanto a lei, Aspettando te. Questo titolo suggerisce che Diletta sta leggendo uno dei tanti libri disponibili sul tema della maternità e di cosa aspettarsi dopo la nascita del figlio. Queste letture sono fondamentali per preparare le neomamme a gestire al meglio la loro nuova vita con un bambino piccolo, offrendo informazioni utili e consigli pratici. Come ogni futura mamma, Diletta è ansiosa di incontrare la sua bambina. Nonostante le sue confessioni riguardo all'essere spaventata da questa nuova avventura, la conduttrice appare radiosa e in splendida forma al sesto mese di gravidanza. La sua bellezza e la sua gioia sono evidenti in ogni scatto, suscitando ancora più attenzione e affetto da parte dei suoi numerosi fan. Non resta che aspettare con entusiasmo l'arrivo di questo piccolo miracolo nella vita di Diletta Leotta. Sarà senza dubbio una madre amorevole e affettuosa, pronta ad affrontare ogni sfida con il suo carattere deciso e la sua determinazione. Continua a seguirla sui suoi canali social per rimanere aggiornato su tutte le sue avventure di vita e di maternità. Sei curioso di scoprire quali altri segreti e sorprese Diletta Leotta è in serbo per i suoi fan? Non perderti nemmeno un dettaglio della sua straordinaria storia. Quindi ti invito a lasciare un like e un commento sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensi e per contribuire al successo del canale. Grazie di cuore per il tuo supporto e per essere parte di questa meravigliosa community. Grazie a tutti.